Oggi è entrato in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Proviamo a dare una doverosa e giusta informazione. Primo punto, evitare ogni spostamento delle persone fisiche dai territori in cui si vive, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Quindi evitare significa che chi deve andare a lavorare lo deve fare, non può rimanere a casa. Chi per ragioni di salute si deve allontanare lo può fare. Chi ha delle ragioni di necessità può uscire dalla propria abitazione. Poi è stato predisposto un modulo di autocertificazione che sarà consegnato ovviamente a tutti i cittadini. Altri punti rilevanti, poi invito tutti a leggere con attenzione il decreto. E' quello di favorire da parte di tutti i datori di lavoro periodi di congedo e di ferie. E noi qui abbiamo molto utilizzato il lavoro agile, che non significa che tutti possano lavorare da casa. Ci sono alcuni lavori che da casa non si possono fare. Quindi queste persone devono contribuire alla tenuta del sistema democratico del nostro Paese e quindi lavorare e non stare a casa. Un altro punto che è stato chiarito, bene, le attività di ristorazione e di bar sono consentite dalle 6 alle 18 con tutta una serie di cautele e precauzioni. Così come tutte le altre attività commerciali si possono svolgere anche al di fuori di questo orario purché siano garantite le condizioni che evitino assembramento e concentramento di persone. L'affollamento e la corsa ai supermercati è vietata. La sanzione è la chiusura del supermercato che non garantisce le condizioni per evitare l'assembramento di persone. Così come festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita. Poi ognuno deve garantire, ognuno, ristorazioni, bar, negozi, attività commerciali, la distanza almeno di un metro. Ci sono sanzioni gravi, ripeto, dalla chiusura alle sanzioni penali per chi non rispetta i divieti. È chiaro che adesso è necessario. Abbiamo detto al governo, anche io oggi sono impegnato in tanti incontri, in conference call, chiamate Skype perché il governo deve estendere a tutta Italia quelle misure economiche inizialmente previste solamente per le zone rosse iniziali. Quindi bloccare tutti i tipi di tasse, imposte, tributi, prestiti, mutui, agevolazioni forti a tutte le categorie che stanno soffrendo, attività produttive, attività commerciali, attività artigianali, agricole, gli operatori dello spettacolo, il turismo, i lavoratori e le lavoratrici che stanno senza lavoro, dal privato sociale al terzo settore, alle categorie più varie, prevedere retribuzioni integrative, e quindi allargamento e integrazione delle casse integrazioni, insomma non può pagare il paese l'emergenza sanitaria. Quindi il governo deve mettere in campo una manovra che sia di sostegno a tutte le attività economiche, ai professionisti, alle attività produttive, agli enti locali, perché se crollano gli enti locali non si possono più garantire i servizi, crolla l'Italia. Allora adesso è importante però anche provare a garantire quella vita ordinaria, cioè chi fa dei lavori necessari per la tenuta del paese deve continuare a lavorare, dai servizi sanitari, ai servizi pubblici necessità, alle attività economiche, alle attività commerciali. È assurdo prendere, come dire, di affanno e di corsa un supermercato, quello non ha proprio senso. Quindi proviamo a rispettare queste norme, saremo tutti più sicuri, si abbasserà notevolmente il rischio di contagio e ritorneremo prima alla normalità. Quindi niente panico, più responsabilità, una vita ordinaria pur in condizioni eccezionali, per poi ritornarci un'altra volta ad abbracciare, a stringerci le mani e a fare quella vita entusiastica che noi napoletani e noi italiani sappiamo fare.